di anton cekov duschenka olenka figlia dell'assessore di collegio in pensione plemmiannikov seduta in cortile davanti alla porta rifletteva era caldo le mosche erano moleste e faceva piacere pensare che la sera si avvicinava a levante si alzavano delle buie nuvole di pioggia e di quando in quando giungeva un alito fresco di vento in mezzo al cortile stava cooking direttore del locale con giardino tivoli il caffè concerto della città guardava pure lui il cielo abitava nella stessa casa ancora disse desolato altra pioggia piove ogni giorno ogni giorno piove sembra lo faccia apposta c'è da impiccarsi una rovina aperse le braccia e continuò rivolgendosi a olenka ecco com'è la mia vita olgas a mienova bisognerebbe piangere lavorare strapazzarsi da non poterne più non dormire nemmeno la notte si fa tutto per il meglio e che ne viene un pubblico ignorante primitivo io gli offro le migliori operette pantomime i migliori canti di couplet ma a che pro ne capisce qualcosa gli ci vogliono dei pagliacci gli vanno servite delle scemenze e poi vedete che tempo la pioggia quasi ogni giorno cominciò il 9 maggio ed è durata tutto il mese ancora il mese di giugno una cosa da far paura il pubblico non viene io devo pagare l'affitto agli artisti il giorno dopo verso sera le nuvole si ammonticchiarono nuovamente cooking disse con un riso nervoso alla malora che il giardino si è inondato e io con lui io che non abbia più fortuna in questa vita e nell'altra che gli artisti mi trascinino in tribunale che mi portino in siberia sul patibolo e il giorno dopo fu lo stesso olenca ascoltava cooking senza dir nulla con aria serena e talvolta le lacrime le salivano agli occhi le disgrazie di cooking finivano per commuoverla cominciò ad amarlo e gli are di statura media magro con un viso giallo e le tà impie lisce parlava con una vocina gracile torcendo la bocca il suo viso era sempre afflitto ma grado ciò nacque in lei un sentimento vero profondo questa amava di continuo qualcuno senza amare non poteva vivere prima aveva amato il suo padre che era adesso ammalato disteso in una poltrona in una camera buia e respirava con difficoltà aveva amato sua zia che qualche volta ogni due anni veniva da briansk e molto prima quando era ancora al liceo si era innamorata del suo professore di francese olenca era una signorina modesta buona compassionevole dallo sguardo dolce come una carezza e sana vedendo le sue guance piene e rose e il suo collo bianco con un neo l'ingenue buon sorriso che le errava sul volto ogni volta che sentiva qualche cosa di piacevole gli uomini pensavano sì non c'è male e anche essi sorridevano le signore quando essa parlava non potevano trattenersi dal prendere la mano e dirle in un impeto di gioia la casa che abitava da che era nata lasciata l'ipertestamento dal padre stava in fondo alla città nel sobborgo degli zingari non lontano dal tivoli di sera di notte olenca sentiva suonare della musica sparare dei razzi e sembrava che cooking lottasse col destino prendendo d'assalto il suo principale nemico che era il pubblico indifferente il cuore allora le si languidiva le passava ogni voglia di dormire quando verso il mattino cooking rientrava in casa e la andava a battere piano alla piccola finestra della sua camera non lasciandogli intravedere attraverso la cortina se non il viso e una spalla egli sorrideva teneramente egli fece la sua richiesta e si sposarono e quando poteva vedere a suo agio il collo e le spalle sane e rotonde di lei cooking allargò le braccia con gioia ed esclamò du sheka era felice ma poiché il giorno del matrimonio e per tutta la notte non fece che piovere l'espressione desolata non lo abbandonò dopo il matrimonio vissero bene o l'incastava alla cassa provvedeva all'ordine del giardino annotava le spese distribuiva le paghe e le sue guance rose il suo riso piacevole ingenuo luminoso apparivano e sparivano allo sportello della cassa fra le quinte del teatro nel ristorante e già diceva ai conoscenti che al mondo quel che c'è di più importante di più serio e necessario è il teatro e che non si possono provare autentici piaceri né diventare umani e istruiti se non a teatro ma domandava forse che il pubblico comprende per lui ci vogliono delle sciocchezze ieri si era presentato Fausto all'incontrario e quasi tutti i palchi erano vuoti se noi avessimo Vania e io messo su una pagliacciata credetemi il teatro sarebbe stato arcipieno domani daremo Vania e io Orfeo all'inferno venite ciò che il marito diceva del teatro e degli attori essa lo ripeteva al pari di lui disprezzava il pubblico a causa della sua indifferenza per l'arte e della sua ignoranza alle prove interveniva e correggeva gli attori e sorvegliava i musicisti e se nel giornale del luogo si diceva male del teatro essa piangeva e si recava in redazione a discutere gli artisti l'amavano la chiamavano Vania e io ed usceca e la si inteneriva per la loro sorte dava loro degli anticipi e se avveniva che la ingannassero piangeva nascostamente senza però lamentarsene col marito l'inverno passò bene affittarono il teatro della città e lo subaffittarono a una compagnia ucraina in tournée a un prestigiatore a filodrammatici cittadini Olenka ingrassava ed era raggiante di piacere Cuchin dimagriva ingialliva si lagnava di perdite enormi quantunque per tutto l'inverno gli affari non fossero andati male la notte tossiva ed essa gli faceva bere degli infusi di fragola e di tiglio gli faceva massaggi di acqua di colonia e lo avviluppava dentro morbidi scialli come sei carino gli diceva in tutta sincerità lisciandogli i capelli come sei bellino durante la quaresima Cuchin si recò a Mosca per scritturare una compagnia e lontano da lui Olenka non poteva dormire rimaneva seduta alla finestra a contemplare le stelle si paragonava alle galline che non dormono neppure esse la notte e provano una certa inquietudine quando nel pollaio non c'è il gallo Cuchin trattenuto a Mosca scriveva che sarebbe tornato a Pasqua e dava le sue istruzioni per il Tivoli ma alla sera della Domenica degli Ulivi molto tardi non intronarono al portone dei colpi sinistri battevano come sopra una botte bum 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 la cuoca svegliatasi sguazzando a piedi nudi nelle pozzanghere corse ad aprire abbiate la bontà di aprire disse qualcuno dietro la porta con voce profonda un telegramma Olenka aveva ricevuto prima dei telegrammi del marito ma questa volta Dio sa perché si sentì terribilmente impressionata aprì il telegramma con mano tremante e lesse Ivan Petrovich morto improvvisamente oggi attendiamo ordini sepoltura lunedì sul telegramma stava anche scritta accanto a sepoltura una parola incomprensibile era firmato dall'amministratore della compagnia d'operette oh mio amato esclamò Olenka singhiozzando Vanish camio caro piccioncino mio perché ti ho incontrato perché ti ho conosciuto e amato hai lasciato la tua povera Olenka questa povera infelice Kukin fu sepolto a mosca il martedì nel cimitero di Vagankov Olenka tornò il giorno dopo e non appena rientrata si gettò sul letto mettendosi a singhiozzare così forte che si sentiva per la strada e nei cortili accanto Duschenka dicevano le vicine facendosi il segno della croce Olga Semienova come si dispera dopo tre mesi Olenka se ne tornava un giorno dalla messa triste in gramaglie per caso uno dei suoi vicini Vasilij Andrievich Pustolavov gerente di uno dei cantieri di legname del mercante Babakaev che ritornava anche lui dalla chiesa fece la strada insieme con lei aveva il cappello di palga un panciotto bianco con una catena d'oro e somigliava più a un possidente che a un mercante ogni cosa la sua stagione Olga Semienova disse pacatamente a Olenka in tono di condoglianza quando uno dei nostri muore è la volontà di Dio occorre dominarci e sopportare il colpo con rassegnazione dopo aver accompagnato Olenka alla porta di casa prese congetto da lei e continuò il cammino in seguito Olenka non fece che risentire per tutto il giorno quella sua voce grave e appena socchiudeva gli occhi vedeva la sua barba bruna le era piaciuto molto e anche ella visibilmente aveva fatto impressione su di lui perché di lì a qualche tempo una vecchia signora che essa conosceva da poco venne a prendere il caffè da lei e si mise a parlare di Bustovalov uomo da bene serio che ogni donna avrebbe sposato volentieri tre giorni dopo Bustovalov venne lui stesso a farle visita non si intrattenne a lungo dieci minuti parlò poco ma Olenka cominciò ad amarlo e non è tanto da non dormire la notte accaldata come se avesse la febbre il mattino mandò a chiamare la vecchia signora il fidanzamento si fece ben presto e poi le nozze Bustovalov e Olenka si erano sposati e vivevano bene di solito egli restava in cantiere sino all'ora del pranzo poi se ne andava in giro per affari e Olenka lo sostituiva rimanendo sino a sera in ufficio a fare fatture e a vendere la merce adesso diceva ai compratori e ai suoi conoscenti la legna rincara ogni anno del 20% vedete una volta noi si vendeva solo legna di qui ora invece Vagica deve andare ogni anno a comprarne nel governatorato di Mojivliev e che spese per il trasporto diceva con aria sgomenta coprendosi le guance che tariffe ripareva di fare il commercio del legname da non so quanto tempo e che nella sua vita la cosa più seria e più necessaria fosse la legna trovava non so che di familiare di commovente in parole come trave tronco asse tavola palo traversa di notte vedeva in sogno delle montagne di tavole e di pali delle file interminabili di carri che trasportavano la legna lontano dalla città vedeva tutta la catasta di ciocchi da ardere ritti in piedi che venivano a far guerra nel cantiere vedeva i ciocchi travi le traverse battersi fra loro con un sordo rumore di legna secca tutti cascavano e si rialzavano si ammucchiavano gli uni sugli altri olenca mandava un grido e pustovalov le diceva dolcemente olenca che hai amor mio fatti il segno della croce le idee di suo marito erano le sue se pustovalov pensava che faceva caldo nella camera o se gli affari ristagnavano lo pensava anche lei suo marito non amava alcuna distrazione né mai usciva nei giorni di festa e neanche lei state sempre a casa o in ufficio le dicevano i conoscenti dovreste andare a teatro o al circo non abbiamo tempo vagica e io di andare a teatro rispondeva tranquillamente noi siamo gente di lavoro non abbiamo tempo da buttare per quelle sciocchezze cosa c'è di buono in tutti questi teatri di sabato pustovalov e lei si recavano ai mattutini i giorni di festa alla prima messa e tornando dalla chiesa camminavano fianco a fianco con un'espressione di tenerezza nel viso ome due profumati lei con la sottana di sete che frusciava gradevolmente a casa bevevano il tè con pane al latte e ogni sorta di dolciumi poi mangiavano una torta lievitata ogni giorno alla porta del cortile e anche fuori si sentiva odore di buona minestra di barbabietole e di montone o anitra arrosto nei giorni di magro c'era odore di pesce così forte che non si poteva passare davanti a casa loro senza sentirsi stuzzicati a mangiarne in ufficio il samovar bolliva sempre e si offriva del tè ai clienti con ciambelline una volta alla settimana i sposi andavano ai bagni pubblici e ne ritornavano a fianco a fianco tutti e due rossi e coloriti niente da dire noi viviamo bene grazie a dio diceva Olenka ai conoscenti che dio conceda a ciascuno di vivere come Vajska e me quando Pustovalov andava nel governatorato di Mogiliev ad acquistare legname essa si annoiava grandemente non dormiva la notte e piangeva talvolta di sera il veterinario militare Smirnin un giovane il quale abitava in un appartamento della loro casa venne a trovarla discorreva e giocava alle carte con lei e ciò la distraeva soprattutto interessanti erano certe storie della vita di famiglia di Smirnin egli era sposato e aveva un figlio ma aveva abbandonato la moglie che lo aveva ingannato e adesso egli la detestava e inviava ogni mese quaranta rubli per il mantenimento del figlio ascoltandolo Olenka sospirava scuoteva il capo e lo compiangeva su via che dio vi assista gli diceva accompagnandolo alla scala con un candeliere grazie di essere venuto ad annoiarvi con me che dio e la regina dei cieli vi proteggano si esprimeva sempre pacatamente in modo riflessivo imitando il marito quando il veterinario era sceso giù dietro la porta gli gridava sapete Vladimir Platonic dovreste riconciliarvi con vostra moglie dovreste perdonarle non fosse che per il vostro figlio quel ragazzino comprende certo tutto e allorché Bustovallo ritornava gli parlava a mezza voce del veterinario e della sua infelice vita coniugale entrambi sospiravano scrollando la testa e parlavano del ragazzo che senza dubbio si doleva di non vedere suo padre dopo dopo per una strana associazione di idee si inginocchiavano entrambi di lanzi alle icone si prosternavano e pregavano Dio di far loro avere dei figliuoli i Bustovallov vissero così per sei anni quieti e sinceri in perfetto amore e accordo ma ecco che una volta d'inverno Vasily Andrievich dopo aver bevuto del tè caldo in cantiere uscì senza berretto a consegnare della legna prese freddo e cadde malato i migliori medici lo curarono ma il male ebbe il sopravvento morì dopo essersi trascinato per quattro mesi e Olenca tornò di nuovo ad essere vedova a chi mi lasci tu mio caro si inghiuzzava dopo la sepoltura come vivrò io adesso senza di te povera infelice che sono brava gente compiangetemi non sono e me altro che un'orfana indossò un vestito nero con dei veli di crespo e rinuncia per sempre a mettersi il cappello e i guanti uscìva di rado solamente per andare in chiesa o alla tomba del marito viveva come una monaca solo dopo sei mesi si tolse i veli di crespo e cominciò a riaprire le persiane qualche volta la si vedeva al mercato con la cameriera ma come viveva che faceva a casa sua si poteva soltanto cercare di indovinarlo qualche cosa si indovinava per il fatto che la si vide per esempio insieme al veterinario a prendere il tè nel piccolo giardino mentre lui leggeva il giornale si poteva indovinare qualcosa anche dal fatto che Olenka incontratasi una volta sulla porta con una delle sue conoscenti le disse in città non esiste nessun regolare controllo veterinario e ci sono perciò molte malattie si sente dire di continuo che il latte ha fatto ammalare della gente o che si sono buscati questo o quel male dalle vacche o dai cavalli bisognerebbe preoccuparsi della salute degli animali domestici come di quella della gente andava ripetendo le idee del veterinario ed era ormai in tutto del suo avviso era chiaro che non poteva vivere nemmeno un anno senza affezionarsi a qualcuno e che aveva trovato una nuova felicità nella sua casetta un'altra donna l'avrebbero biasimata ma nessuno poteva pensare male di Olenka della sua vita era tutto così chiaro né lei né il veterinario parlavano del mutamento sopravvenuto delle loro relazioni anzi cercavano di nasconderlo ma era inutile perché Olenka non poteva avere dei segreti quando i camerati del reggimento di Smirnin venivano a trovarla Olenka versando il tè o servendo il pranzo si metteva a discorrere della peste e della tubercolosi bovina e dei macelli municipali Smirnin si turbava molto finite le visite afferrava Olenka per la mano e le diceva in collera con voce sibilante ti ha pregata di non parlare di quello che non capisci quando noi discutiamo tra veterinari non impicciartene ti prego e se canta infine essa lo guardava con stupore e gli chiedeva inquieta ma di che devo parlare vlogica lo abbracciava con le lacrime agli occhi supplicandono di non arrabbiarsi ed entrambi erano felizi tuttavia la loro felicità non durò molto tempo il veterinario partì col reggimento e senza sapere se sarebbe ritornato poiché avevano trasferito il reggimento assai lontano quasi in Siberia e Olenka rimase sola il padre le era morto già da molto e la sua poltrona stava in granaio coperta di polvere con un piede rotto Olenka era dimagrita imbruttita e quanti l'incontravano non la guardavano più come prima né le sorridevano era evidente che gli anni migliori le erano rimasti dietro le spalle il che adesso cominciava una vita nuova ignota a cui era meglio non pensare la sera Olenka rimaneva sulla soglia della porta ad ascoltare la musica che si suonava al tivoli e udiva i razzi crepitanti però tutto questo non risvegliava in lei nessuna idea indifferente guardava il cortile deserto non pensava a nulla e non desiderava nulla e venuta la notte andava a coricarsi e vedeva in sogno il suo cortile vuoto beveva mangiava come se vi fosse costretta soprattutto ed era il peggio non aveva più nessuna opinione vedeva degli oggetti intorno a sé capiva ciò che succedeva ma non poteva farsi un'opinione su nulla né sapeva di che parlare e con me è triste non avere opinioni si vede per esempio una bottiglierita la pioggia che cade un contadino che passa sopra un carro ma che senso ha tutto questo impossibile dirlo anche se vi dessero mille rubli quando viveva con Kukin con Kustoválov e dopo col veterinario Olenka era capace di spiegare tutto avrebbe detto la sua opinione su qualunque cosa adesso invece tutta sola con i suoi pensieri e la sua anima sentiva dentro lo stesso vuoto del cortile ed era angoscioso e amaro come dell'assenzio la città poco a poco si era ingrandita da ogni lato il sobborgo degli zingari si chiamava ora via degli zingari e dove c'era un tempo il giardino Tivoli e i cantiari di legname avevano costruito case e avevano aperto strade il tempo era passato veloce la casa di Olenka era annerita il tetto si era arrugginito la tettoia pencolava il cortile era tutto in vaso delle erbe e dalle ortiche Olenka era invecchiata imbruttita l'estate rimaneva sull'uscio e la sua anima era come un tempo triste e vuota con sapore di assenzio l'inverno rimaneva accanto alla finestra guardava la neve sentendo la primavera il vento che portava il suono delle campane della cattedrale i ricordi di un tempo la invadevano d'improvviso il cuore le si stringeva e lacrime abbondanti le colavano dagli occhi ma ciò non durava che un minuto poi di nuovo era il vuoto l'ignoranza di quello per cui si vive la gatta nera brisca si strofinava contro di lei e faceva le fusa dolcemente ma le sue carezze non commuovevano Olenka di ben altro sentiva il bisogno sentiva bisogno di un amore che invadesse tutto il suo essere tutta la sua anima tutto il suo spirito che le desse delle idee delle opinioni una linea di condotta che le riscaldasse il sangue intorpidito e cacciava via brisca dalle ginocchia dicendole seccata via 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 che vuoi qui così di giorno in giorno di anno in anno non una gioia non un'opinione ciò che diceva Mavra la cameriera andava bene in una calda giornata di luglio verso sera mentre per la strada passava una mandria di vacche il cortile era pieno di nugoli di polvere qualcuno battè d'improvviso alla porta Olenka andò e la stessa ad aprire e dopo che ebbe guardato restò stupita dinanzi alla porta c'era il veterinario Smirnin coi capelli già grigi in abito civile essa si risovvenne del passato ad un tratto non pote trattenersi e si sciolse in lacrime e appoggiò la testa sul petto senza dire parola e neppure si accorse tanta era l'emozione che insieme che insieme erano entrati dentro casa e bevevano il tè mio caro belbettava lei travando di gioia Vladimir Platonic da qual paese Dio vi ha ricondotto qui voglio stabilirmi qui definitivamente rispose Smirnin ho dato le mie dimissioni e vengo a cercare fortuna in libertà voglio farla finita con una vita nomade d'altronde è tempo che io mandi il mio figlio al ginnasio egli cresce quanto a me figuratevi mi sono riconciliato con mia moglie e dov'è lei? chiese Olenka all'albergo con mio figlio cerco un appartamento ma prendete la mia casa non è un appartamento mio Dio disse Olenka rimettendosi a piangere non vi prenderò nulla rimanete qui io starò benissimo nel padiglione signore che gioia l'indomani già cominciavano a imbiancare i muri e Olenka tenendo i pugni sulle anche andava e veniva nel cortile dando ordini il sorriso di un tempo rischierava il suo viso riviveva tornava ad essere fresca come se si fosse risvegliata dopo un lungo sonno la moglie del veterinario arrivò una signora magra brutta con capelli corti e un'espressione capricciosa e con lei un ragazzo Sasha molto piccolo per la sua età aveva già dieci anni magra sottello con gli occhi turchino chiaro e le fossette alle guance appena fu in cortile corse dietro alla gatta e sudì il suo riso felice ziuccia domandò a Olenka la gatta è vostra quando avrai gattini me ne darete uno mia mamma ha paura dei topi Olenka gli parlò gli fece bere del tè ed improvviso il cuore le diventò caldo nel petto e le trasalì dolcemente come se quel ragazzo fosse suo figlio quando la sera seduto nella stanza da pranzo ripassava le lezioni essa lo guardava con tenerezza e con passione e mormorava mio caro mia stella bambinetto mio come sei carino che bello bianca come sei intelligente si chiama isola e gli leggeva uno spazio di terra circondato d'acqua e da ogni parte si chiama isola si chiama isola ripeteva Olenka e fu la prima opinione che espresse con convinzione dopo tanti anni di silenzio e di vuoto ella aveva ormai delle opinioni e a pranzo diceva ai genitori di sciascia come sia ora difficile per i ragazzi seguire le lezioni nei ginnasi tuttavia l'istruzione classica vale di più che l'insegnamento moderno perché il ginnasio apre tutte le carriere dopo si può diventare quel che si vuole dottore ingegnere sasha cominciò ad andare al ginnasio sua mamma si recò a Tsiarkov dalla sorella e non tornò più suo padre partiva ogni giorno in viaggio per ispezionare il bestiame restando a volte tre giorni senza rientrare a casa pareva a Olenka che avessero abbandonato completamente sasha che non si avesse cura di lui e che lo lasciassero morire di fame lo prese con sé e lo fece stare in una sua cameretta sono già sei mesi che sasha sta da lei ogni mattina Olenka entra nella camera e gli dorme profondamente con la mano sotto la guancia sembra che non respiri e la esita a svegliarlo sasha inca gli dice tristemente levati piccolo mio è tempo di andare al ginnasio e gli si alza si veste e dice le sue preghiere quindi siede a prendere il tè ne prende tre bicchieri mangia tre grosse ciambelle e la metà di un panino al burro ancora non è del tutto sveglio e non è perciò di buon umore non sai bene la favola tashanka e lo dice guardandolo come se stia per partire per un lungo viaggio mi fai stare in pena cerca di impararla carino ascolta i tuoi maestri oh lasci oh lasciatemi zucce vi prego disse sasha poi si reca al ginnasio piccolino così ma con un grosso berretto e con la cartella sulla schiena olenka segue in silenzio sashinka gli grida e gli si volge ed ella gli mette nella mano un dattero un confetto arrivato nella strada dov'è il ginnasio e gli prova vergogna di vedersi seguito da quella donna alta e formosa si volta e le dice rientrate zia adesso andrò avanti da solo e la si ferma e lo guarda senza perderlo di vista sinché non mette piede sulla porta del ginnasio ah come lo ama fra tutti i suoi affetti passati nessun altro è stato altrettanto profondo e il suo cuore non si era mai prima d'ora sottomesso così pienamente senza il minimo secondo fine con tanta gioia come adesso che il sentimento materno arde in lei sempre più forte per quel ragazzo a lei così estraneo per le fossette delle sue guance per il suo berretto darebbe la vita la darebbe con gioia con lacrime di tenerezza perché ah chissà perché quando il ragazzo è entrato nella scuola e la torna piano verso casa così contenta e tranquilla piena di amore il suo viso ringiovanito negli ultimi sei mesi è tutto un sorriso coloro che la incontrano provano piacere a guardarla le dicono buongiorno anima cara Olga Semianovna come state Dushenka adesso è difficile seguire le lezioni del ginnasio e la racconta al mercato non è uno scherzo ieri nella nona classe hanno dato una favola da imparare a memoria una traduzione latina è un problema come fa un ragazzo a cavarsela e comincia a parlare di insegnanti di lezioni di libri scolastici di tutto quello che ne dice Sasha alle tre pranzano insieme la sera lo aiuta a fare i compiti e piangono mettendolo a letto Olenka fa su di lui dei lunghi segni di croce e bisbiglia una preghiera poi colicandosi sogna l'avvenire lontano e incerto quando Sasha ha finiti gli studi sarà dottore o ingegnere e avrà una grande casa dei cavalli una vettura e si sposerà e avrà dei figliuoli s'addormenta pensando sempre le stesse cose le lacrime le colano dagli occhi chiusi sulle guanze la gatta nera coricata al suo fianco fa le fusa brr 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 ha un tratto un gran chiasso all'uscio sulla strada Olenka si sveglia e non respira agghiacciata dallo spavento il cuore le batte forte dopo mezzo minuto battono di nuovo alla porta è un telegramma da Tcharkov pensa e trema per tutto il corpo è sua mamma vuole che Sasha le sia mandato a Tcharkov ah signore si sente disperata la testa i piedi le mani le si ghiacciano e sembra che nessuno al mondo debba essere più infelice di lei ma passa ancora un minuto si sentono delle voci è il veterinario che fa ritorno dal circolo che Dio sia lodato a poco a poco il peso che aveva in cuore sparisce e di nuovo sente di rifiatare va a letto e pensa a Sasha e gli dorme profondamente nella camera vicina e qualche volta dice in sogno ora te le do va via smetti di picchiare